amici di quarta parete eccomi qua al marconi su questo bel divano e davanti a me una bella scacchiera ebbene sì perché a volte le storie d'amore sono delle partite vede proprio partita scacchi ragazzi no lo dico a valentina corti buonasera valentina e fabrizio che i tani buonasera buonasera naturalmente a fabio ingrutto buonasera ciao andrea che bello rivederti grazie la cosa come diceva qualcuno è riciclo allora valentina è vero che a volte le storie d'amore sono delle partite a scacchi sono delle partite a scacchi delle partite di risico delle partite a calcio c'è sempre un po di strategia no e c'è sempre un diciamo un finale anche a tombola c'è sempre un finale imprevisto no per cui a volte l'amore non basta e quindi poi insomma le le vicende seguono seguono altre logiche altre logiche logiche anche inaspettate a volte ci sfuggono assolutamente sì tutto questo in più vero del vero di di marzo più vera del vero più vera del vero è giusto questo femminile più molto importante molto importante attende che questa è una amaculata questa è una iena ridenza una provocazione perché volevo vedere la belva che usciva da valentina che belva che belva loro non ne possono più non mi sopportano più ma perché più vera del vero ma sono vittime no semmai sono io la vittima semmai sono io la vittima no non è vero siamo una squadra ormai super collaudata questo è il quarto spettacolo terzo il terzo spettacolo che facciamo io scusate nel frattempo ho mangiato un mandarino anche per entrare in due campi hai dismesso la precedente di viso ma soprattutto si vuole coprire i capelli sì perché sto praticamente facendo questa porto dei capelli all'indietro per entrare meglio nel personaggio che è un po un don buro tipo christian desica no i capelli indietro e niente vabbè diciamo l'entrata natalizio per il mandarino sempre per giocare a insomma nel campo dei giochi no certo perché è un po è un po un gioco questo spettacolo sì questa storia che però poi si trasforma si evolve in una cosa un po più seria si piange anche penso a te penso a te sì e fabia fabia che ieri si è emozionata e siamo rimasti pure noi un po scioccate ma perché siamo due comici capito già due comici di fine carriera che già fanno piangere stanno facendo una con me che se l'ultima commedia che che faremo per questa ma guarda sinceramente questa è stata una commedia che noi non abbiamo scritto quindi sapevamo benissimo che andiamo a fare un lavoro diverso e chi fa questo mestiere poi pure per non fare sempre le solite cose si deve mettere alla prova e questa è stata una prova interessa è una prova interessante perché abbiamo fatto la prima replica e quindi abbiamo provato a fare la prima replica la gente è rimasta molto contenta naturalmente io non mai aspettavo questa parte quindi questo vuol dire che ci sarà magari un'altra occasione per fare una commedia di buoni sentimenti mai dire mai guarda mai dire mai certo a fine carriera quindi adesso mai dire mai è il titolo mai dire mai è il titolo ok avete sparato le ultime cartucce no 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 stiamo all'inizio stiamo all'inizio comunque perché più vera del vero diciamolo diciamolo perché questa è una storia molto particolare di questi due amici grandissimi amici quarantenni uno sposato un po' in crisi l'altro scapolo incallito impenitente sempre pieno di donne impenitente un po' si un po' playboy e quindi è un po' peter pan esatto due due peter pan che però giocano a scacchi questo è fondamentale la scacchiera sappiamo che la scacchiera è una metafora è una metafora facciamo vedere valentina comunque c'ha delle scene diverse si vede in diverse vesti non anticipiamo troppo comunque io interpreto questo androide che viene regalato da anche questa lettura tecnologica diciamo esatto è proprio il tema della tecnologia che entra poi nella nella quotidianità nella vita delle persone che poi porta a uno sconvolgimento di equilibri di emozioni insomma ci sono vari risvolti che forse un po' sottovalutiamo quando ci confrontiamo con la tecnologia che sta prendendo sempre più piede nelle nostre vite però valentina c'è anche questa esigenza questa questa voglia di amare di sentimenti di stare insieme a una persona no esatto quasi diventa quasi un'ossessione la ricerca della felicità forse no la ricerca dell'amore della della relazione perfetta c'è questa ansia costante no della della perfezione nelle nostre vite spesso ci fa perdere un po' la bussola come dire e non ho capito niente no ma loro non l'hanno neanche letto loro non l'hanno letta capito però io riporto il tema che l'autore mi sembra molto attendibile quello che sta dicendo valentina meno male che ci sei tu meno male guarda io ormai sono abituato però siamo no stavo dicendo questa cosa è un tema molto attuale non ci siamo il tema è robore ma tutte e due in realtà e robò non è tutte e due io ne manco con valentina ci ho guadagnato in ogni caso ciao ciao ragazzi e quindi e quindi concludendo vi aspettiamo è una commedia molto carina delicata raffinata non sono nostri giudizi ma le persone che sono venute ieri sera e che si sono appassionate a questa storia e volete fare promozione con me grazie vi ringrazio allora noi vi aspettiamo siamo al teatro marconi fino al 6 gennaio il teatro è bello grande non c'è un bello stanzone bello grande quindi però dobbiamo dire che il 31 c'è anche il 31 è una serata speciale vi aspettiamo a partire dalle 10 c'è un piccolo rinfresco il drink di benvenuto le lenticchie a mezzanotte con il brindisi insieme a noi spumante panettone pochi d'artificio daremo fuoco al teatro bellissimo no non abbiamo soprattutto fabian io penso che rimarremo anche dopo lo spettacolo ad oltranza perché poi ci sono due guitti sul palco che si potranno sfogare dopo dopo lo spettacolo senti il dopo dopo lo spettacolo credo di sì posso fare questa cosa allora quindi ricapitolando concludendo da stasera il 29 il 30 il 31 il 2 il 3 il 4 il 5 il 6 gennaio siamo qui al marconi con questa bellissima commedia più vera del vero con di marcial corse regia di felice della corte fabrizio gaetani valentina corti e fabian grutto se a quarta parete grazie andrea sei un signore grazie a voi ragazzi in bocca al lupo auguri auguri a voi naturalmente sempre buon teatro buona vita viva il teatro ciao